E' la prima volta che vinciamo questo premio e che abbiamo tra l'altro sfiorato per qualche anno, quindi è sicuramente una bella soddisfazione. La perseveranza aiuta? Sì, senz'altro, sì. Noi contiamo di produrre queste barche in modo molto preciso e con delle finiture molto, curate perché abbiamo visto che questa barca è una misura che sul mercato non c'è un prodotto di alta qualità su questa misura, quindi speriamo di aver successo con questa imbarcazione e di costruirne poi.